L'ultimo consiglio del 2018, dichiarazione intenti dei gruppi consigliari. Il mio impegno per rivalutare la figura di Filoteo Alberini e promuovere il festival del corto, lo ha detto il regista Dalatri alla cerimonia di consegna delle chiavi della città. I canti della Pasquarella aprono gli eventi del 2019 di Orte. Buon 2019 a tutti voi e bentrovati per la prima edizione del TG Magazine. Apriamo con la pagina politica. L'ultimo consiglio comunale del 2018 si è svolto lo scorso 27 dicembre. Al termine della setuta abbiamo raccolto le impressioni su quanto si è discusso e anche i propositi per il 2019. Un bilancio dell'attività consigliare del 2018 e cosa vi aspettate per il prossimo anno? Siamo in attesa perenne perché qui sembra sempre un immobilismo costante. Sembra che non ci sia poca carne al fuoco sostanzialmente. Basti pensare che è stato al finanziamento preso dal credito sportivo, il mutuo preso dal credito sportivo per 620 mila euro per il rifacimento delle gratinate, comunque una sistemazione degli impianti sportivi e ad oggi non è stata spesa una lira. Sembrerebbe che siano stati optati 18 mila euro per costruire delle casette in legno da di birra, spogliatoi dei campi da tennis. È come se io chiedessi un mutuo per acquistare una casa e poi ci comprassi una roulotte, la stessa cosa sostanzialmente. Per il resto tante domande anche sui temi sociali, basta vedere il discorso dell'asilo nido che ancora non si riesce a capire, questi genitori perennemente appesi a delle proroghe, ad un futuro che non si sa, il sindaco che ci accusa tra l'altro di speculare sui bambini, no, è esatto contrario, noi ci teniamo ai bambini, ci teniamo al fatto che comunque è un servizio pubblico e come tale è un servizio che deve essere garantito. Il bilancio del 2018 è un'evidente volontà dell'amministrazione di voler privatizzare ed esternalizzare tutto, questa sera siamo ritornati alla carica anche se velatamente con la farmacia comunale, dopo il tentativo andato male al sindaco per privatizzare l'asilo nido, questa sera una bella notizia, abbiamo saputo per noi che ci teniamo a mantenere il servizio in capo al pubblico, il bambino è andato deserto quindi continueremo con le proroghe, il sindaco ha addirittura ipotizzato di modificare il tipo di gestione a metà anno intorno a marzo, noi speriamo che anche questa volta la cosa non vada come dice lui, che le sue scommesse vadano perse come è accaduto per questo bando, per questo comodato d'uso dell'immobile. Per il futuro ci aspettiamo sicuramente un po' più di decoro urbano, visto che abbiamo anche l'assessorato istituito appositamente da questa amministrazione, l'ho già riportato all'attenzione del sindaco nell'altro consiglio comunale, abbiamo le strade che necessitano di pulizia, c'è un degrado generalizzato per tutto il paese, almeno su questo speriamo di avere qualche risultato migliore per il 2019. Questa prima fase innanzitutto la considero molto positiva, perché indipendentemente dal fatto che abbiamo avuto grossi problemi, in una fase iniziale siamo riusciti a programmare delle situazioni che poi adesso prenderanno corpo, anzi proprio nei prossimi giorni, quindi ripeto è stato tutto il lavoro di preparazione, di ripetimento dei fondi che adesso ci consentirà di poter realizzare quanto avevamo programmato. Senza dimenticare che nel frattempo credo che abbiamo dato dei buoni risultati alla cittadinanza, mi riferisco alla pubblica e all'immunazione, all'installazione della fibra ottica, tutta una serie di situazioni che hanno migliorato la vita sociale, la riqualificazione del quartiere di Petignano, lo spostamento del centro H, l'intervento di manutenzione sul verde, quindi tutta una serie di cose che secondo me potranno dare nel futuro anche dei risultati molto positivi. Per il prossimo anno? Per il prossimo anno, proprio nei prossimi giorni, partirà la prima orientazione del centro storico, partiranno i lavori di riqualificazione e ristrutturazione dell'Alberini, avremo tutto l'intervento sugli impianti sportivi e se riusciremo a trovare i fondi necessari credo che rifaremo tutti i marchi di corte scalo. Mi impegnerò per promuovere la figura di Filoteo Alberini, è quanto detto dal regista Alessandro Dalatri nella cerimonia di consegna delle chiavi della città. La cerimonia, svoltasi nella sala consigliare, ha visto la presenza di una rappresentanza degli studenti che hanno girato un cortometraggio che sarà presentato nella prossima edizione del Festival Alberini. Non è la prima volta che è qui ad Orte, ci vuole bene? Questo è un bel segno, che mi volete bene e che vi voglio bene. Tra l'altro sempre in questa stanza qui ci incontriamo e faceva un po' più caldo prima, però a Orte è sempre bello il tempo. Stamattina camminando, salendo adesso, ho sentito l'odore dei camini e quindi c'è questa dimensione, secondo me, antica, che è molto bella. Poi niente, sta diventando una frequentazione, quindi come si dice, non c'è due senza tre, adesso sono curioso di sapere qual è il terzo appuntamento, però bene, sono felice di esserci. È bello questo riconoscimento, mi ha accolto molto. Che valore le tue? Sento, a parte l'accoglienza della città, che mi fa molto piacere, ma di grande fiducia nei miei confronti e quindi anche di grande responsabilità. Stai chiari a perderle? È pericolosissimo. È pericolosissimo poi, certo. Ecco, tutto si fa anche per rivalutare le figure di Filoteo Alberini. C'è da fare tanto, però il personaggio merita. Eh beh, insomma, io mi sento collega di Filoteo in questo, nel senso che abbiamo sposato tutti la stessa passione e in mezzo c'è tanta gente che, secondo me, come noi, ama questa passione e quindi credo che nel nome di Filoteo si possa costruire parecchio. Sto aspettando di leggere materiali in più che mi erano stati promessi perché bisogna partire proprio da una ricostruzione molto attenta e dettagliata di questa figura. In più, vedere le macchine, cioè ricostruire un po' il percorso, cioè farlo diventare un appuntamento. Credo che già, per esempio, istituzionalmente il festival che avviene qui a Orte è già comunque sia un punto di riferimento. Perché se va valorizzato e promosso. Assolutamente, quindi diciamo che ci sono una serie di elementi che consentono anche la vicinanza con Roma, secondo me, è importante perché poi comunque Roma ha fagocitato un po' il cinema della storia, no? Adesso c'è una controtendenza perché il cinema si sta ridistribuendo diciamo nel territorio italiano e quindi non c'è più una centralità romana da quel punto di vista però, diciamo, la vicinanza di Roma può essere importante per poter rilanciare. Ecco, diciamo, gli elementi ci sono tutti. Assolutamente. Manca la spinta propulsiva per partire? Eh, credo che adesso, conoscendoci sempre meglio, probabilmente possiamo gettare un po' di strategie, no? Per poter favorire questo. Ripeto, è anche un viaggio, è un bellissimo fine settimana, per esempio, Orte alla scoperta del cinema. E quindi è anche un itinerario non soltanto culturale dal punto di vista cinematografico, ma anche no gastronomico, di riconoscenza del territorio, archeologico, perché comunque Orte è una città importante. Quindi io credo da questo punto di vista c'è la possibilità di fare, come dire, quel multitasking di cui si parla tanto in questi ultimi tempi e che consente di dare un'offerta. Ecco, oggi stiamo qui, è la fine dell'anno, è una giornata meravigliosa, sembra primavera. Quindi credo che anche il clima sia favorevole a un posto di questo tipo. Insomma, ci sono tante possibilità. È bello capire anche la disponibilità, per esempio, dei giovani e della cittadinanza a rendersi partecipi a una sensibilizzazione di questo tipo. Giornate come questa servono essenzialmente a due cose, valorizzare la figura di Filoteo Alberini e il festival a lui dedicato. Assolutamente sì. Abbiamo proprio cercato di fare questo, sensibilizzare l'opinione pubblica, sia a livello, diciamo, ortano, ma anche a livello nazionale. E con questa manifestazione, che è la consegna delle chiavi a questo grande regista molto importante italiano, che è Alessandro Daladri, è questo quello che proprio vogliamo fare. Siamo già al lavoro per la prossima edizione del 2019, dove porteremo grandissime novità, perché il festival cercheremo di fare più giorni, non solo due giorni, come abbiamo fatto nella precedente edizione. Cercheremo di creare una tavola rotonda molto importante, proprio per far conoscere ancora di più, con esperti del cinema e del settore, con registi, attori e studiosi, la figura di Filoteo Alberini. Prodietteremo anche poi il cortometraggio La linea oscura di Stefano Gabriele, che è stato girato ad ottobre con l'Istituto Dommi Comprinsivo di Orte. Queste sono un po' le novità che piano piano, poi nel corso del prossimo anno, noi cominceremo a svelare, attraverso comunicati stampa, bandi, eccetera. Una parola sul festival da pochi mesi concluso, un bilancio positivo è senz'altro, ma il ritorno che può portare questa edizione? Sì, perché comunque, come dicevi giustamente, il bilancio è stato positivo, soprattutto per la quantità di cortometraggi che sono arrivati, perché sono arrivati quasi 140 cortometraggi, è stato anche difficile poi selezionarli. Noi attraverso questo festival cerchiamo proprio di far conoscere la figura di Filoteo Alberini, anche attraverso poi i comunicati stampa che comunque sono usciti su diverse destate, sia di settore che non di settore. Mi auguro che voglio fare un autoaugurio, diciamo così, proprio per il prossimo anno, perché comunque insieme ad Antonio Carloni, ringrazio anche al Comune di Orte, quindi Valeria Dubaldo, tutti gli assessori, al sindaco Angelo Giuliani, il nostro obiettivo è proprio questo. I canti della Pasquarella sono l'apertura degli eventi per il 2019 nella città di Orte, un viaggio che inizia con una manifestazione atta a raccogliere offerte da destinare ad opere sociali e che passa attraverso eventi consolidati e novità. Se la Pasquarella chiude le festività natalizie, apre però la serie degli eventi del 2019 della città di Orte e che il calendario sia nutrito e ricco lo sappiamo, ma ricordare cosa ci aspetta ogni mese non è che faccia male. A gennaio la Pasquarella, i canti di questo a che i cantori portano le quartiere e nelle strade di Orte. Il ricavato andrà come sempre destinato in opere sociali. E per mischiare il sacro e il profano, a febbraio unzione della gola il giorno di San Biagio nella chiesa all'Uintitolata e feste varie organizzate dai vari comitati per San Valentino. I primi giorni di marzo ci portano la fine del carnevale con maschere e carri. Ad aprile il primo evento top, la processione del venerdì santo sempre più attenzionata dai media nazionali e le feste per la liberazione del 25 aprile. Subito dopo la Spantaran Race, prevista per il 28. Il 30 aprile invece spazio alla tradizione popolare con il Canta Maggio. Mese, quest'ultimo, pieno di appuntamenti, da quelli religiosi come quello dedicato alla Madonna di Pompei e quello dei Santi Martiri, a San Sebastiano in festa. A giugno, festa nel quartiere di Caldare per la Madonna della Strada e al Santuario della Trinità, ma soprattutto festa di Sant'Antonio Abate, protettore di Orte Scalo, a metà mese. Luglio ci porta in campagna per celebrare la festa della trebbiatura, ma si attende con grande curiosità la seconda edizione di Lirica sul Tevere, dopo il grande successo della prima edizione. E per i più giovani, appuntamento fisso con la manifestazione musicale promossa dall'associazione The Groove. Agosto ci riserva il rito dell'inchinata e l'inizio della seconda manifestazione top, la grande rievocazione medievale dell'ottava di Sant'Egidio, che si protrae sino alla prima metà di settembre. Ottobre è dedicato alla cinema, con il Festival Alberini. A novembre, la giornata del confratello, è il primo dei due appuntamenti del terzo evento top, Orte in Cantina. Dicembre, infine, non ha bisogno di particolari avvertenze, presepi, canti natalizi e veglioni di fine anno. E perdonateci se abbiamo dimenticato qualcosa o qualcuno, ma questo elenco è solo per dire che il mondo dell'associazionismo ad Orte è un patrimonio enorme che va tutelato, promosso, incorreggiato e sostenuto da tutti. È ora il momento di conoscere le previsioni meteorologiche, quindi cedo la linea al Trebimeteo. Benvenuti a Trebimeteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica che vedrà una parziale attenuazione del freddo sull'Italia. Si attenuano queste correnti gelide che hanno interessato il nostro paese nei giorni scorsi e in effetti anche come nuvolosità sanno presenti delle belle schiarite. Però di tanto in tanto qualche annuvolamento si farà vedere soprattutto sul medio e basso adriatico. In effetti anche come precipitazioni le zone che rischiano ancora qualche goccia di pioggia sono quelle appunto del medio e basso adriatico e pure intorno allo stretto di Messina. Però ormai parliamo sostanzialmente di piogge e non più di nevicate. Quindi in definitiva domenica a un certo punto di vista anche discreta, con delle belle aperture però medio e basso adriatico e lo stretto di Messina ancora con un po' di variabilità ma anche in quelle zone non mancheranno delle pause con qualche bella apertura. Con questo è tutto per i dettagli sulle singole località scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Ed ora come potete vedere alle mie spalle è il momento di conoscere la programmazione del Cine Alberini di Orte per questa settimana. La prima proposta è il film di cui si sta parlando in questo momento, I Moschettieri del Re, la penultima missione. Sabato 5 alle 21.40, domenica 6 alle 17.45 e alle 21.30, lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 alle 21.30. Vi ricordo che mercoledì il biglietto costa 4 euro. La seconda proposta è il Grinch, domenica 6 alle ore 15.30. È tutto per questa edizione del TG Magazine, vi ricordo come sempre a seguire l'appuntamento con il collega Stefano Stefanini, fatti e commenti. Noi ci vediamo alla prossima edizione, arrivederci e ancora buon anno a tutti voi. Grazie. Grazie a tutti.